Una serie di appuntamenti in tre giorni dove si uniscono le realtà locali ma arrivano anche diversi artisti famosi in tutta Italia. Sì, un discorso unico che unisce i generi dall'elettronica, la musica corale, il jazz, pop, rock, classica, lirica, comprese forme espressive diverse, avremo anche un po' di cinema, un po' di fotografia, ma sempre in un discorso unico con le associazioni locali che fanno sistema e che portano la loro qualità sul palco insieme alla qualità di livello nazionale, cioè a Vincola, i Life in the Woods, Susanna Stivale, l'Orchestra del Cesme, quindi un'offerta molto ampia, molto piena di qualità e di artisti di livello civile e chiese, non so, penso al Felice Tazzini Trio o ai Manifesto, messi insieme a professionisti di livello nazionale. Quindi sia una bella festa della musica e delle associazioni che di cuore sostengono la cultura in questa città. Di musica ne abbiamo tante in città, c'è bisogno però di fare sistema, di stare insieme, di scoprire che si può essere una comunità e su questo sicuramente il sostegno della comunità è stato importante e speriamo di continuare a crescere in questa maniera. E c'è stato anche il sostegno della Fondazione Carici, oltre che del Comune e degli altri sponsor. Gabriele Sarracco, la Fondazione ci ha visto lungo sul Forte Festival? Ma sapevamo chi c'era, che poneva le basi di Forte Festival e la risposta è stata positiva. Poi l'abbiamo ascoltato dalle parole del Presidente, è a livello culturale completissimo. C'è tanta tanta musica, è vero, ma ci sono anche mostre fotografiche, pittoriche, incontri con i giornalisti. Civitavecchia sale alla ribalta con Forte Festival. Le richieste che hanno avuto da ogni parte di musicisti e di giornalisti lo dimostrano. Per cui io faccio un grande in bocca al lupo e sono certa che Civitavecchia si farà sentire in tutta Italia attraverso Forte Festival.